Al Piccardo di Borzoli, Virtus Estri e Loanesi mandano in scena il quinto game del campionato di promozione in girone A. Ospiti in vantaggio già al decimo, invenzione di Giawari, stop e girate in un fazzoletto, destro potente a battere l'Auni. Gara intensa, si gioca soprattutto a metà campo, squadre corte e pochi spazi, Virtus che prova a reagire al quarantesimo con una punizione di pace al lato di Poco. Loanesi che legittima il vantaggio con la sventola di Brignoli su calcio piazzato deviato in corna da Auni a primo tempo scaduto. Andrea Giannotti con immagini e montaggio ci porta ad una ripresa nella quale non accade nulla sino al sessantaduesimo. Quando prima Crosetti trova Brignoli a rispingere sulla linea di porta, poi Axua chiama Egliante alla ribattuta con i pugni. Ritmi sempre sostenuti, poca qualità nel palleggio, alla mezz'ora Rossi alza di non molto sopra la traversa. Passano tre minuti, raddoppio l'Alanesi, Bottaro in cespica sulla sfera, Giauari ruba il tempo a Launi e batte a rete con un destro sporco. 0-2 Al trentadovesimo Brignoli su punizione colpisce il palo con il non entrato bianco immobile. Lo stesso 12 di casa si concede alla platea sul siluro di Pastorino 60 secondi più tardi. Con un netto 2-0 all'inglese l'Alanesi di Borgna supera l'esame Virtus Estri e si candida come grande protagonista di questo campionato di promozione Gironea. Due reti di Giauari, una per tempo. Dal Piccardo di Borzoli è tutto, a voi la linea studio.